L'Europa è sopravvissuta alla peggiore crisi economica e finanziaria degli ultimi decenni, ma i cittadini europei ne hanno subito le conseguenze e ora stanno perdendo fede nel progetto europeo. Ne parliamo dall'Economic Forum di Bruxelles con un attore chiave della gestione della crisi, il direttore del Meccanismo Europeo di Stabilità, Klaus Reigling. Signor Reigling, grazie di essere con noi in Global Conversation. Lei è il direttore di un meccanismo che è stato creato al culmine della crisi per venire in aiuto ai paesi bisognosi di denaro. Finora avete dato più di 250 miliardi di euro, se non sbaglio. Da dove vengono questi soldi? Lo chiedo per via di tutta la retorica che circola sul denaro dei contribuenti, sui francesi o i tedeschi che spendono per i paesi che ne hanno bisogno. È un'argomentazione giustificata? Sì e no. Il denaro che eroghiamo a questi paesi proviene dai mercati. Quando veniamo in aiuto alla Grecia o in passato all'Irlanda o al Portogallo, non si tratta di denaro che proviene dai bilanci nazionali dei nostri azionisti. Tuttavia l'accordo prevede che i bilanci dei nostri azionisti assumano dei rischi, perché nel momento in cui garantiscono la nostra operazione, il rischio ricade sui bilanci nazionali. Se qualcosa andasse storto, questi rischi si tradurrebbero in un costo reale. La Grecia è un caso particolare perché è l'unico paese che benefici ancora della supervisione del meccanismo europeo di stabilità. Com'è la situazione attuale? Che cosa dobbiamo aspettarci dall'Eurogruppo di giovedì? La Grecia è davvero un caso particolare. Tutti gli altri quattro paesi che ne hanno beneficiato hanno avuto bisogno di un solo programma. La Grecia è al suo terzo programma per una ragione. Il punto di partenza era il più difficile. C'erano i più forti disallineamenti e c'è stata anche una grave battuta d'arresto nello sviluppo della Grecia un anno fa. Nella prima metà del 2015 il governo greco ha tentato un nuovo approccio, ha fatto marcia indietro su alcune riforme e quindi gli sviluppi positivi che avevamo visto anche in Grecia nel 2014 sono stati interrotti in maniera piuttosto seria. Vuole dire che il terzo programma si poteva evitare? Non so se si sarebbe potuto evitare del tutto ma sicuramente sarebbe stato molto ridotto. Ma ora che siamo al terzo programma la cooperazione con il governo greco è tornata produttiva. Penso ci siano buone probabilità che l'Eurogruppo venga presa una decisione sul prossimo esborso. E poi c'è questa grossa discussione su una riduzione, una redefinizione del debito per la Grecia. L'ultima volta l'Eurogruppo ha dichiarato che si potrebbe attivare un meccanismo dopo il programma se necessario. Che cosa significa se necessario? Il debito è sostenibile o no? Questa è la grande domanda. Dato che disponiamo di un orizzonte temporale molto lungo, perché il programma giungerà a termine ma i prestiti matureranno solo nel corso dei prossimi 30 o 32 anni, se vogliamo fare in modo che in questo periodo la Grecia possa tornare a stare in piedi da sola, dobbiamo gestire le incertezze intrinseche in un periodo così lungo. Sappiamo tutti che le previsioni sono sempre rischiose, ci sono incertezze anche per l'anno prossimo. E se abbiamo a che fare con un periodo di tempo di 30 anni, per forza di cose le incertezze saranno molto maggiori. Quindi la dichiarazione dell'Eurogruppo che dice di essere pronto ad aiutare la Grecia, ammesso che la Grecia implementi le riforme, è dal tutto appropriata. Penso che questo sia molto positivo, perché prendere tutte le decisioni ora potrebbe non essere abbastanza. E se non fosse abbastanza la Grecia ne soffrirebbe. E se fosse troppo gli stati membri della zona euro non sarebbero molto contenti. Fra meno di dieci giorni i cittadini britannici decideranno se rimanere nell'Unione Europea oppure no. Se decidono di andarsene, come sarà il giorno dopo per l'Europa? Lei che cosa teme di più? Politicamente sarà una grossa perdita per l'Unione Europea se il Regno Unito se ne va. E questo è il motivo per cui tutti i governi europei vogliono che resti. Penso che economicamente ci saranno dei costi, soprattutto per il Regno Unito, molti studi lo confermano. Non è chiaro quali saranno i costi precisi, perché dipenderà molto da che cosa accadrà nei prossimi anni, che tipo di accordi il Regno Unito avrà con l'Unione Europea. Naturalmente ci saranno delle relazioni, ci saranno scambi commerciali, ma non sappiamo esattamente quale aspetto prenderà questa relazione. Non sappiamo quanto ci vorrà per raggiungere un accordo del genere e di conseguenza è molto difficile prevedere esattamente che cosa accadrà. È anche possibile che i mercati diventino molto volatili. Questo potrebbe provocare una nuova crisi nell'Eurozona o nell'Unione Europea? Non saprei, perché la volatilità nei mercati non sempre implica immediatamente una crisi, ma può avere effetti negativi sugli sviluppi economici. Non vedo però il rischio di una crisi. Lei è uno degli artefici del pazzo di stabilità come lo conosciamo oggi. Jean-Claude Juncker, il Presidente della Commissione Europea, è stato criticato per aver dato un margine di manovra, per aver dato ancora tempo alla Francia, di raggiungere l'obiettivo di bilancio, il deficit del 3%. La Francia è un caso diverso? Penso sia importante avere regole fiscali chiare nell'Unione Monetaria, perché nell'Unione Monetaria Europea abbiamo questo esperimento unico in cui la politica monetaria è completamente centralizzata. Un unico tasso di interesse, un unico tasso di cambio. In altri settori, nella politica fiscale, le riforme strutturali vengono effettuate nei diversi paesi in modo decentralizzato e c'è sempre chi da decenni sostiene che questo sistema non possa funzionare. La nostra risposta è sempre stata che può funzionare, ma deve essere coordinato bene. Negli ultimi due anni abbiamo anche reso il patto di stabilità più flessibile in modo che si possa adattare a situazioni economiche diverse e penso che questo sia un bene in una certa misura. È giusto dare alla Francia più tempo per adeguarsi? Tutto dipende dall'analisi della situazione ed è alla Commissione che aspetta a decidere. Come ho detto, ora vengono presi in considerazione più fattori nella decisione sulla flessibilità, ma nel complesso ci deve essere parità di trattamento fra i paesi. Un'ultima domanda. Hai mai avuto la sensazione che l'Eurozona potesse collassare? Penso che ci siamo andati vicino nel 2011 e nel 2012, ma grazie alle diverse iniziative, alla Banca Centrale Europea, al Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, al Meccanismo Europeo di Stabilità, all'Unione Bancaria, all'adeguamento dei paesi coinvolti, eravamo già sulla buona strada ed è molto facile capire ora, con il senno di poi, perché alla fine questo non sia accaduto. Ci siamo andati vicino e penso anche che senza la creazione dei meccanismi di stabilità, per esempio, alcuni paesi sarebbero stati costretti probabilmente ad abbandonare la zona euro e sono felice che questo sia stato evitato. In conclusione, abbiamo avuto momenti di grande rischio negli ultimi anni, ma penso che possiamo essere orgogliosi per i risultati ottenuti. Quindi non ci sono paesi a rischio di abbandonare l'eurozone in questo momento? No, non all'altro, sì. Ok, Mr. Reigling, grazie molto per essere con noi. You're welcome.